A modernare la rete cittadina di distribuzione del gas, una priorità per il comune di Teramo, che annuncia una serie di interventi che a breve renderanno più sicuro e continuativo l'uso del gas metano per i teramani. I lavori si sono resi necessari dopo la brutta esperienza che la città visse nell'aprile del 2014, quando per una diminuzione di pressione nel metanodotto principale, Teramo e la zona montana di Torricella rimassero senza gas. Importanti investimenti sulla rete del gas per sventare ciò che è successo nel 2014. Un miglioramento qualitativo che ci consentirà di poter, da qui a qualche settimana, non appena la rete arriverà in prossimità del ponte San Ferdinando, di poterci ricollegare alla cabina di Teramo di Carapollo in modo tale da poter creare un circuito ed evitare che si possa ripetere quello che è accaduto nel 2014. La problematica del gas oggi è sotto l'attenzione di tutti, ma questo non è un problema di erogazione di quantità di gas che esce, ma qui è stato un problema di prevenzione per evitare che quello che è accaduto si potesse ripetere nella nostra città. Ecco, con queste attività, con queste importanti attività, con questi investimenti che sono stati fatti, oggi possiamo dire, da qui a qualche settimana potremmo dire, che questo problema dovrebbe essere scongiurato. Il collegamento tra le due cabine di distribuzione di gas di Carapollo e Teramo Nord farà in modo che non ci sarà mai più mancanza di metano all'interno degli edifici. Ci potranno invece essere disagi transitori per i cittadini a causa dei lavori di interramento dei tubi realizzati dalla società 2i Rete Gas sulle due arterie principali di Via Le Crispi e Via Kona. Questi lavori naturalmente porteranno qualche disagio alla città, quali in particolare? È inevitabile, come dicevamo prima, il fatto che si debba necessariamente scavare per poter posare dei tubi del gas. Quindi l'aspetto che vedremo nel prossimo immediato futuro è proprio su Via Le Crispi, dove per ultimare i 500 metri di rete che separano dall'altezza della stazione fino al ponte San Verdinando, sarà necessario comunque dover procedere con operazioni di scavo abbastanza delicate e quindi sicuramente arrecheremo qualche disservizio alla circolazione piuttosto che alla cittadinanza. Però l'obiettivo finale è quello poi di avere una città sicuramente più sicura da un punto di vista distributivo. Grazie. Grazie. Grazie.